Serena Rossi, come stai? Bene, bene, è sempre bello stare nella famiglia di Disney, partecipare ad eventi così belli, colorati, gioiosi e importanti. Come tu non c'entri nulla con la Disney? Uah, ah, 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 io, eh, allora, io sono la principessa, non ci pare, ma sono la principessa. Senti, hai già sentito qualcosa di questo Elemental, anche se non l'hai... Ho sentito che è molto commovente, visto che io poi sono una che ha la lacrima in tasca, sono sicura che questa sarà una serata piuttosto emozionante. Mi piace l'idea di questi elementi così diversi tra di loro che sembrano incompatibili, impossibili, metterli insieme. Credo di aver capito che il film parli di questo, della diversità, dell'accoglienza, dell'ascolto, dello stare insieme. La tematica a me è molto cara, quindi sono molto curiosa. Sei più acqua o più poco? Terra. Ah, 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 sono terra, totalmente. Il mare o montagna, collina? Esattamente. No, sono una molto piantata a terra, non sono una che vola troppo, non sto in aria, non sono fumantina, sono terra. Progetti, progetti prossimi? Ah, eh, non li posso dire, ma sono molto belli. Ho due progetti molto diversi tra di loro, uno per la televisione, uno per il cinema, e poi forse ci sarà mina, tre, insomma tante cose all'orizzonte e anche un po' di riposo.